Con milioni di siti web e articoli pubblicati ogni giorno, può essere difficile tenere traccia di tutto ciò che accade online e filtrare ciò che è importante per la presenza online della propria attività. Con Ranking Coach Free riceverai l'app di marketing online definitiva per scoprire, monitorare e segnalare le attività online più importanti per la tua azienda, per mettere la protezione del tuo marchio nelle tue mani. E la cosa migliore è che è completamente gratuita. Quali sono le funzionalità di Ranking Coach Free? Il più grande vantaggio dell'applicazione Ranking Coach Free è quello di ricevere aggiornamenti su tutto ciò che ha un impatto sul tuo marchio online in un unico feed. Che si tratti della tua attività o di quella dei tuoi principali concorrenti, ti terremo aggiornato. Riceverai notifiche in tempo reale sulle recensioni dei clienti attraverso la nostra app Ranking Coach per costruire la consapevolezza del tuo marchio. Monitora il tuo posizionamento per un massimo di 20 parole chiave e ottieni rapporti dettagliati per 5 di esse per poter arrivare in cima ai risultati di ricerca di Google. Puoi confrontare le tue posizioni con quelle dei tuoi concorrenti. Puoi anche monitorare le promozioni e gli annunci dei tuoi concorrenti per essere sempre due passi avanti a loro e sapere quando è il momento di agire. Inoltre, sia che si tratti di un post sui social media di Facebook, Twitter o del tuo profilo Google Business, tutto può essere monitorato da un'unica postazione. La gestione della tua presenza online è semplice. Con Ranking Coach Free puoi anche massimizzare la tua visibilità locale gestendo il tuo profilo Google Business attraverso la nostra app o possiamo anche crearne uno per te. Puoi anche collegare il tuo Google Analytics per monitorare il traffico del tuo sito web. Tieni aggiornate le informazioni chiave della tua attività e gestisci la tua reputazione online per costruire un marchio forte e affidabile. Vuoi proteggere la tua reputazione online e avere i dati necessari per far crescere la tua azienda online? Non aspettare e iscriviti oggi a Ranking Coach Free. È facile, intuitivo e, soprattutto, gratuito. E se volete ottenere altre preziose informazioni sugli argomenti di marketing digitale e su Ranking Coach, iscrivetevi al nostro canale e guardate i nostri prossimi video.